Ciao ragazzi, Ivano Arnedevizio Monza. Nuovi arrivi donna firmati il 120esimo anniversario, abbigliamento bellissimo, nuovi arrivi uomo firmati il 120esimo anniversario, guardate anche la bella felpa che ho indossato, i caschi, i caschi del 120esimo anniversario, questo è l'integrale appena arrivato, i jet bellissimi con la visiera scomparsa, quello bianco è fantastico, vi aspettiamo in negozio, shop online, Alessia sarà contenta di vestirvi da capopiedi per la festa, per il compleanno, per il 120esimo, siamo aperti anche domenica 14 maggio, vi aspettiamo, la merce va toccata, a presto, ciao ragazzi, Ivano Arnedevizio Monza.